Nel mese dedicato alla memoria, il 16 febbraio alle 9, nell'auditorium del liceo scientifico Tedone, davanti alla platea di studenti e professori, Daria Paoletta, attrice e fondatrice della compagnia teatrale Burambò, ha letto e interpretato brani tratti dal romanzo Una bambina e basta, di Lia Levi, che ha vissuto sulla sua pelle il dramma delle leggi razziali del 1938 e della deportazione di parenti e amici nei lager nazisti. Lia Levi narra di come abbia vissuto il passaggio dall'infanzia all'adolescenza in un clima di paura, incertezza, fino alla conclusione della guerra. Nonostante tutto, la ragazzina e tutte le donne che la circondano non perderanno mai il coraggio e la forza di affrontare le difficoltà. L'evento è stato promosso da liceo Tedone e dalla compagnia teatrale Menir. È un libro commovente, è un tentativo riuscito di raccontare la propria storia, quella di Lia Levi, che è l'autrice, che era una bambina negli anni del fascismo ed era una bambina ebrea. Quindi il libro racconta attraverso gli occhi di una bambina ciò che è accaduto in quegli anni e molte volte rivela di non aver capito niente ma di aver semplicemente intuito, sentito, avvertito il pericolo, la minaccia, la tensione. È stata fortunata, lei non è stata sopravvissuta egregiamente. Tra l'altro l'ho incontrata di persona, ho avuto l'onore di leggere le sue pagine davanti a lei ed era incredibile come, nonostante la sua meravigliosa possibilità di riscattarsi attraverso la scrittura, quella rimane una cicatrice anche per chi non è andato ed è stato fortunato non è andato nei campi di concentramento. È comunque una ferita molto molto grande e io ricordo che mentre io leggevo lei ha pianto tutto il tempo.